La Coppa Italia sta dando grandissimi, grandissimi match. Tanti ottimi match abbiamo visto, tanti ottimi match vedremo. È sicuramente una competizione, ma vedo arrivare uno dei partecipanti, Psycho Mike. Il tuo match purtroppo non è andato come speravo. No, 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 no. Non voglio neanche sentire parlare di questa cosa. Lo ammetto, levati da lì, lo ammetto. Io sono stato sconfitto, ho preso il mio avversario troppo leggermente, ero convinto di venire qua e fare una serata di divertimento, di pestaggio. È vero, l'ho ferito, l'ho colpito e gli ho fatto più male di quanto abbia mai sentito nella sua miserabile vita da sfigato. Perché è uno sfigato, anche se questa sera ha avuto la fortuna di battermi. Ma non succederà un'altra volta. E tutti gli altri in questa maledetta federazione, prestate attenzione perché è arrivato Psycho Mike. Sono vent'anni che faccio pezzi ogni fottuto lottatore italiano e non ho intenzione di fermarmi adesso. Anche se questa sera, la mia prima sera in UIVA, sono stato sconfitto e me ne vergogno, me ne vergogno, ma non succederà un'altra volta. E anche se capita che vengo sconfitto, nessuno vi fa soffrire. Quanto sono in grado di farmi soffrire. Io, con le mie mosse e le mie tecniche assassine. C gymию T Fa T Fa T Fa T Fa T Fa Grazie a tutti.